Qui troverete alcuni suggerimenti utili su come risparmiare spazio sul disco con Devesoft. Qual è la frequenza di campionamento necessaria? Stima la massima frequenza del tuo fenomeno fisico e scegli di essere 5-10 volte più veloce. A proposito, è possibile impostare la frequenza di campionamento individualmente per ciascun canale. Sono disponibili diverse frequenze. I canali di temperatura, ad esempio, possono essere memorizzati lentamente. Dal display recorder si vedono le diverse frequenze di campionamento. Inoltre, quando si ha a che fare con misure a lungo termine, è possibile memorizzare solo quando necessario utilizzando trigger temporali. Ad esempio, ogni ora per un solo minuto. Ecco come appare il file dati. Oppure, potete impostare il trigger sui segnali. Se abbiamo un sensore di vibrazione, potremo registrarlo solo quando c'è un cambiamento. Per gli esperti, c'è la possibilità di non memorizzare i canali, ma continuare ad usare i canali. Non potete usare le matematiche, nei filtri, ecc. Ma ricordatevi che in seguito non sarà disponibile rielaborare i segnali. Fondamentalmente vi consigliamo di archiviare sempre i dati grezzi. I dati video di solito occupano la maggior parte dello spazio sul disco. Avete settato la compressione online offline nelle impostazioni? Se lo avete dimenticato, potreste eseguire la compressione sul file memorizzato successivamente. Il video originale di grandi dimensioni può quindi essere eliminato. Vi consigliamo di utilizzare una webcam con compressione JPEG integrata. Potrete spostare i dati utilizzando l'opzione Multifile in combinazione con il plugin Data Manager per trasferire automaticamente i file sulla rete o un server FTP durante la misura. Ci auguriamo che questo video vi sia stato utile e vi invitiamo a guardare gli altri tutorial sul nostro canale Devsoft Italia. Grazie. 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 Grazie.